Culle per neonati da Scalum trovi tre modelli stupendi. Da Scalum trovi tre culle per neonati che uniscono comfort per i piccoli a un design unico e bellissimo, ideali per ogni cameretta. La mini culla in rattandalia di Scalum offre stabilità e durabilità, grazie alla sua struttura intrecciata e le finiture verniciate. La culla a dondolo Fabian, realizzata in resistente legno di faggio e rivestita in cotone, offre un'estetica calmante e comfort per il neonato. La culla in vimini imbottita Fabian, morbida e confortevole, è dotata di maniglie per un facile spostamento e un ambiente elegante.